Giuseppe Bonanno Catanese è il coreografo scelto da John Turturro per il suo Rigoletto in Cina. Raccontaci un po' il primo incontro, com'è andata? Il primo incontro con John Turturro è stato al Teatro Massimo, in ottobre 2018. Da lì poi siamo andati pure a Torino e da Torino siamo andati pure adesso in Cina. La mia collaborazione con Turturro inizia da qui, perché io sono stato fino a maggio un ballerino stabile nel Teatro Massimo. Il primo impatto è emotivamente sempre forte, perché comunque sia ti ritrovi una grande personalità, in questo caso anche del cinema. E devo dire che è una persona che comunque ti mette a suo agio, c'è una persona che è disponibile e ha quell'umiltà e che hanno i grandi sul lavoro. La disponibilità di un grande artista con un altro lavoratore, in questo caso lo spettacolo, in questo caso io come coreografo. E quindi ho potuto, da questa esperienza, trarre molte informazioni su quello che è anche la sua visione registrica. Ed è stata, ed è la sua visione registrica, in questo caso proprio di rigoretto dire che è stata una bella opportunità anche di crescita professionale. In Cina quando andrete? In Cina io partirò tra breve. Il debutto sarà il 25 di ottobre. Siamo veramente felici. Io come direttore artistico sono veramente felice di avere l'amico e collega Giuseppe Bonanno, con il quale ho avuto il piacere di condividere tantissimi anni all'interno del Corpo di Ballo del Teatro Massimo, e tantissime esperienze anche fuori dal teatro, e veramente tanti ricordi di spettacoli fatti insieme. Ho danzato in passato delle bellissime coreografie sue. Grazie. Grazie.